Nessuna novità se non negativa e tira un lungo sospiro Francesca Bortolin, delusa, preoccupata. L'abbiamo raggiunta al telefono pochi minuti fa in Congo, ancora bloccata nella residence insieme al marito Marco Morandin, lì per adottare un bimbo di 14 mesi prima che ne nascesse un intrigo internazionale. Dopo il ritiro dei visti ora sono rimasti anche senza passaporti, di fatto clandestini in un paese lontano. E direi che era capricciante come situazione, ma soprattutto pensare che due cittadini veneti, italiani, siano in queste condizioni e nessuno li difende è ancora più scandaloso. Questo sta a dimostrare il fatto che il governo non ha credibilità a livello internazionale, non c'è potere contrattuale. Sono 24 in tutto le coppie bloccate in Congo, un altro padre ha fatto rientro in Italia sabato solo grazie a un documento rilasciato dall'ambasciatore italiano. L'idea della coppia trevigiana ora è che Marco quindi parta dopo Natale, ai primi giorni di gennaio, per tornare nella marca cercando di cambiare le cose da qui e sensibilizzare ancora le autorità. Del resto abbiamo avuto una ministra che è Chiang, che ha girato l'Italia in lungo e largo facendo proseliti e insegnando a tutti come si deve vivere, poi il risultato è che da questo paese che lei conosce bene viene fuori che ritirano addirittura i passaporti ai nostri cittadini, non esiste. Per quel che mi riguarda ho dato incarico al mio consigliere diplomatico di interessarsi di tutto questo e di fare in modo di riportare a casa questi cittadini.